Sono Rattix, oggi vi porto a scoprire insieme a me questa bellissima DS5 2000 diesel 180 cavalli, allestimento SoChic, immatricolazione 2017 con 143.000 km Troviamo, comodi pratici sensori di parcheggio anteriori Cerchile diamantato molto bello e elegante raggio 18 Retrovisori elettrici, vetri posteriori oscurate Queste maniglie cromate che richiamano il cerchio in veda Nella parte posteriore abbiamo appunto retrocamera e sensori di parcheggio posteriori E poi abbiamo questo ampio e spazzolissimo bagagliaio con doppia panca reclinabile In carattere invece troviamo appunto questi comodi e bellissimi sedili in tessuto misto pelle Vettri e tetto panoramico e vetri elettrici posteriori Internamente abbiamo poi display touchscreen appunto dove gestire l'infotainment Clima automatico bizzona Accensione elettronica Comodo e pratico bracciale portoggetti E cambio automatico Se volete scoprire altre informazioni seguirci su Rattis.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!